Qualcosa di nuovo sta arrivando. Coinvolge tutti, nessuno escluso. Le spiagge si svuotano. Sembra ci sia meno voglia di partire. È Moviment e cambierà la tua estate. Attori straordinari, film eccezionali. E il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Moviment. Al cinema tutto l'anno.